Oggi il Superbonus è una grande opportunità. E infatti fioccano le richieste per chi se ne occupa professionalmente. Il lavoro aumenta a dismisura. E con esso le responsabilità. E' davvero difficile smarcarsi dalle richieste dei clienti e soprattutto accontentarli tutti senza incappare in errori. Insomma, se il bonus ti ossessiona... Non disperare! Non ci preoccupi, le pratiche saranno pronte domani. Arrivederci, buona serata! Puoi affrontare il tuo lavoro con una tranquillità diversa. Scegli la polizia DAS Professionista su DAS.it